A suo modo è un risultato che fa notizia visto che finora la marcia dell'Olympic Sansovino era stata inarrestabile. L'atletico Piazza è riuscito a costringere al pareggio la formazione Aranciun Blu che forse ha pagato anche le fatiche di Coppa Toscana dopo il match disputato mercoledì scorso contro l'Invicta che valso la conquista della semifinale. Alla fine alle piazze è finita 1-1, risultato che consenta agli inseguitori della Fonte Belverde di avvicinarsi alla Sansovino. La squadra di casa è passata in vantaggio con Barile. Il pareggio per i ragazzi di Giacomoni invece ha portato la firma di Biscaro Parrini. Sul campo di Cetona dunque un mezzo passo falso che però non scalfisce il valore di una squadra che finora ha lasciato poche briciole agli avversari in questo girone F di prima categoria.